Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 74 kg, in palloncini rosso-bianchi e con un record professionista formato da 29 incontri risultati, 27 vittorie per lui, decine quali per il racconto, una sconfitta ed un pari, già campione d'Italia e già campione internazionale, silver WC dei pesi in medi. Contro di lui, a suo angolo, Omar Loi con Paolo Mecca, per la Nobisil 82, da numero d'Italia, Contro di lui, ai lontani, Contro di lui. La prima impresa, per la Nobisil 2. 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , bravo. sinistro. , bravo. Grazie a tutti. , bravo. , bravo. , bravo.